Clamoroso. Condannato l'infettivologo Massimo Galli, divenuto famoso nel Covid-19 per falso. Ecco tutti i dettagli. Prima di iniziare, iscriviti al canale e condividi il video. Grazie mille! Massimo Galli, noto infettivologo e volto conosciuto durante la pandemia Covid-19, è stato condannato a un anno e quattro mesi per falso dal Tribunale di Milano. La sentenza riguarda il processo sui presunti concorsi truccati per professori e ricercatori dell'Università Statale di Milano. Galli annuncia ricorso e si dice assolutamente sereno. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto Galli colpevole di aver falsificato un verbale del 14 febbraio 2020, ma lo ha assolto dalle accuse di turbativa d'asta e abuso d'ufficio. «Ho dimenticato di correggere una data», ha spiegato Galli subito dopo la sentenza. Il processo è nato da un'indagine dei PM Carlo Scalas ed Eugenia Baj Macario sulle presunte selezioni pilotate per posti da professore e ricercatore alla Facoltà di Medicina della Statale di Milano. Galli, che è stato assolto dalle accuse principali, ha spiegato in aula che il 14 febbraio 2020 stava completando un lavoro scientifico cruciale sul Covid-19. «Sono finito in questa storia per un'intercettazione di due persone a me ostili», ha dichiarato, ribadendo la sua innocenza e la sua intenzione di fare ricorso. Dopo la sentenza, Galli ha manifestato la sua delusione, ma ha confermato la sua intenzione di lottare per dimostrare la sua innocenza. «Sul falso, l'unica cosa che mi sento di ammettere è di aver dimenticato di correggere un orario», ha detto. «Se per chiudere la questione bisognava avere una condanna per qualcosa, evidentemente restava solo la possibilità del falso». La vicenda di Massimo Galli è solo uno dei numerosi episodi che ci ricordano quanto sia importante l'integrità nel mondo accademico. Resta aggiornato su questa e altre storie iscrivendoti al canale e condividendo il video con i tuoi amici. Grazie mille per il supporto!